Concentrati su Coppa e campionato, è il doppio sforzo chiesto in questo momento alla Virtus che ospiterà per la Team Cup il Genoa di Gasperini e sabato 30 debutterà in campionato a Catania, anche se non si sa ancora se sarà un torneo a 21 o 22 squadre. Illuminante dovrà essere il Consiglio federale di lunedì. La priorità del Lanciano è stato detto e ripetuto in coro, da tecnico ai giocatori rimane il campionato, ma la gara col Genoa stuzzica la fantasia dei tifosi che gremiranno il biondi per provare a spingere i rossoneri all'impresa. Così la inquadra il difensore Antonio Equilanti, Lanciane Sedoc. È un motivo di orgoglio aver portato una squadra di Serie A, non per un amichevole ma per una partita ufficiale. Questo è un motivo che a noi ci rende felici perché significa che in questi anni che siamo stati qui abbiamo fatto un ottimo lavoro. Poi noi siamo contentissimi anche per la nostra città, per Lanciano proprio come città, per i nostri tifosi che hanno la possibilità di vedere squadre così importanti qui al nostro stadio. Quindi noi siamo veramente contenti. Speriamo di regalare un'ulteriore gioia anche se sappiamo che sarà veramente dura. Capitolo formazione. La squadra è uscita arricchita dal mercato con quattro nuovi elementi e in grado di dare al tecnico d'Aversa maggiori alternative tecniche e tattiche. Sul primo fronte i due che potrebbero subito scendere in campo sono Pinato e Grossi, mentre Bacinovic non è pronto. Per un monachello si è in attesa del transfert dal Monaco che difficilmente arriverà. La squadra dovrebbe schierarsi di nuovo secondo i canoni del 4-3-3 come contro l'Alessandria ma non è escluso il 3-5-2. Inoltre a disposizione del tecnico ci sarà anche Amenta, non schierato per infortunio contro l'Alessandria. Il giocatore tra l'altro è uno dei tre squalificati in campionato, gli altri sono Piccolo e Turchi. Questo il probabile 11-Rossonero. Andrade in porta, difesa con Aquilanti a destra e Mammarella a sinistra, al centro Ferrario o Amenta e Trest ex di turno anche se non ha mai giocato in rosso-blu. A centrocampo Vasto la paghera di Cecco, in avanti Piccolo Tiam e Gatto. Nel suo 3-4-3 Gasperini dovrebbe puntare in attacco su Piniglia con Perotti e Cucca. A centrocampo Rosi e Antonelli sugli esterni, Greco e Rinconi in mediana. In difesa esordio Perizzo con De Maio e Burdisso in porta Perin, dirige Doveri di Roma 1. Concludiamo con un'annotazione storica. Ad Orsogna, una manciata di chilometri da Lanciano, venne confinato dal 1941 al 1943 William Garbut, ex giocatore inglese che da allenatore vinse tre scudetti alla guida del Grifone. Fu il primo allenatore professionista nella storia del calcio e a lui si deve la consuetudine di chiamare misteri tecnici.